Cioè tu non puoi fare un corso di doppiaggio se prima non conosci bene la dizione, se non conosci l'articolazione, se non sai che cos'è la fonetica, perché è inutile, spendi dei soldi inutilmente. Tante persone investono dei soldi in maniera, mi dispiace, sono molto ingenui, ma non è colpa più che delle persone, sono quelli che propongono questi corsi promettendo chissà che cosa. Ma un professionista che sia tale e che abbia anche un'onestà intellettuale dovrebbe dire alla persona in questione e chiedergli, va bene, vuoi fare il doppiaggio, vuoi diventare un doppiatore? Mi raccomando, attenzione, diventare un doppiatore è un lavoro molto molto difficile, non solo per la preparazione che devi avere, ma anche perché devi spostarti, devi stare nelle sale, devi conoscere, fare un lavoro difficilissimo da poter fare. Ma prima di avvicinarsi soltanto ad una sala di registrazione, solo per arrivare nei paraggi di questa sala di registrazione, non possiamo arrivarci se non abbiamo un'ottima preparazione a livello proprio di voce, dizione, fonetica, articolazione, respirazione e prosodia, lettura espressiva e recitazione. Sono le cose basilari che prima devi imparare e poi dopo vai al corso di doppiaggio, perché tutti sono affascinati dal doppiaggio, tutti sono affascinati dall'idea di lavorare con la voce e tutti vorrebbero sentire la loro voce doppiare degli attori. Ma questa cosa qui non è possibile farla in maniera professionale se prima non abbiamo una solida preparazione proprio a livello vocale. Quindi io diffido tutti coloro che accettano nel loro corso di doppiaggio persone che non hanno fatto dizione, che non hanno conosciuto prima che cos'è la fonetica, la prosodia, la recitazione, eccetera, e dovrebbero fare dei corsi dove poi mantengono però le promesse e dire ok, corso di doppiaggio, ma prima del corso di doppiaggio o parallelamente all'insegnamento del sync che si fa in sala abbinando la voce al volto e alle parole in un'altra lingua che vengono espresse dall'attore, prima di avvicinarsi al sync o parallelamente bisogna lavorare sulle basi. Invece la cosa che mi lascia molto perplesso è quando vedo che la maggior parte dei corsi di doppiaggio invogliano le persone a iscriversi, la gente si iscrive perché pensa di poter raggiungere o comunque di poter si è affascinata dall'idea di, ma è inutile inseguire un sogno se prima non si hanno delle basi. Allora è un dovere da parte di chi fa i corsi di doppiaggio far capire alla persona che o lo sta facendo per suo diletto e quindi diciamo lo voglio fare per sfizio, per curiosità, quindi senza nessuna velleità professionale. Va beh, allora mettiamoci a imitare il sync, a trovare il sync, ma se vogliamo diventare dei professionisti, imparare il sync è la cosa più facile, cioè è difficile perché la devi applicare in sala, ci servono delle condizioni particolari per cui se tu non lo fai mai imparerai, ma se tu lo cominci a fare, posso assicurarvi che anche le persone meno portate per il doppiaggio sono diventate poi brave a riconoscere e a prendere il sync, il labbiale. E la parte, diciamo, più tecnica, il sync, il sync è la sincronizzazione tra il movimento delle labbra e la voce che viene doppiata, cioè in inglese ti sarà capitato di ascoltare dei messaggi, ogni tanto tu hai qualche piattaforma streaming, che ne so, Netflix, Prime, queste cose qua. Comunque facci caso, su alcuni canali, adesso è molto facile, primo un tempo era difficilissimo, però se tu hai una smart tv, cioè hai una televisione collegata anche a internet? Credo di sì, credo, credo di sì. Allora facci caso, se c'hai una televisione, chiedi anche a tuo marito, se avete una televisione anche smart tv, ma ormai le fanno tutte così, quindi è impossibile, a meno che proprio sia un televisore molto datato, ma la smart tv è fatta in maniera tale che il televisore si collega al wifi della rete. E proprio è nativa la composizione di tante applicazioni all'interno del televisore. E se vai un po' a girare tra le varie applicazioni, troverai sicuramente qualche canale che ha dei prodotti, dei contenuti in lingua italiana, perché sono stati tradotti e doppiati in italiano, ma molto facilmente, andando a vedere tra i comandi, potresti anche cambiare la lingua e mettere l'originale. Questo è un esperimento molto interessante, perciò vedi se c'hai la smart tv. Grazie a tutti.